Il Centro di Solidarietà di Catanzaro Marina e l'Associazione di Volontariato Un Raggio di Sole con il sostegno della Fondazione Conil Sud hanno presentato il progetto La Solidarietà in Movimento nel municipio di Celia Marina. Il progetto si svolgerà infatti nel territorio di questo comune che peraltro è quello con il più elevato numero di immigrati a livello provinciale. I beneficiari saranno immigrati ed autoctoni anche senza fissa dimora con grave difficoltà e carenza di beni e servizi di prima necessità come indumenti e coperte, pasti caldi ed assistenza sanitaria. Il tutto parte da un'idea di Antonella Maru che avrà una durata di 18 mesi. Verranno offerti servizi come consulenze specifiche sia a livello sociale che psicologico attraverso colloqui di mediazione, risoluzione di problematiche burocratiche, supporto ed orientamento per servizi ad hoc. Presidente Anania, sicuramente un'iniziativa accolta con entusiasmo qui nel comune di Celia Marina. Voi come Centro di Solidarietà di Catanzaro Marina e l'Associazione Raggio di Sole siete di fatto coloro soggetti che l'hanno avviato. Un'opportunità, un progetto nato nel marzo 2017 e che terminerà nel novembre 2018. Come si svilupperà? Il progetto in pratica è stata da un'idea che è partita nel 2015, il quale abbiamo molto creduto e grazie a Fondazione con il Sud è stata approvata questa bellissima iniziativa che porterà sostegno, supporto non solo con il pasto caldo o le prime necessità bensì con consulenze specifiche, con un mediatore culturale i quali andiamo incontro alle necessità e bisogni del territorio del comune di Celia Marina e nelle zone limitrofe. Non è solo su Celia Marina. Certo che naturalmente abbiamo una buona massa di immigrati che hanno una necessità diversa. Di tutto ciò ci occuperanno i volontari, i veri protagonisti del camper della solidarietà, per questo si chiama la solidarietà in movimento. Non aspettiamo che vengano presso le nostre sedi, bensì andiamo sul posto per vedere le varie necessità. Presidente Romeo, c'è entusiasmo per questa iniziativa che verrà svolta a Celia Marina. Andiamo nei dettagli. La Presidente Anania parlava del ruolo dei volontari all'interno di questo camper. Andiamo un po' nei dettagli di questa iniziativa. Come si svilupperà? Il progetto è già partito. Abbiamo fatto due fasi di formazione degli operatori. Abbiamo finito ieri la formazione degli operatori. Ci sarà una seconda formazione per quanto riguarda le modalità di distribuzione dei pasti, alimenti, coperte e tutto quello che riusciamo a raccogliere anche nei ristoranti per quanto riguarda vivere. Poi c'è il Banco Alimentare che ci dà una grossa mano d'aiuto e vengono automaticamente poi portati in luogo direttamente alle famiglie. Famiglie che vengono segnalate dalla parrocchia e dalle politiche sociali del comune di Celia Marina. Sarà un progetto che si svilupperà in stretta sinergia tra voi e l'amministrazione comunale? Certo, certo. Noi l'amministrazione comunale, le politiche sociali, in patente è intervenuto l'assessore Mustare che ci ha dato la sua disponibilità e in particolar modo le parrocchie che sono quelle che conoscono veramente la situazione delle famiglie. Certo, questo con la massima riservatezza e con la massima discrezionalità. Antonella Maruca, tu sei la progettista, di fatto la figura che ha ideato il tutto. Parlavi in conferenza stampa, un'idea che è diventata opportunità. Il tutto si svilupperà da marzo 2017 a novembre 2018, quindi 18 mesi. Allora, 18 mesi di lavoro, ma sicuramente di entusiasmo, perché è uno dei primi progetti finanziati dalla Fondazione Sud, da un'associazione di volontariato nella provincia di Catanzaro. Siamo qui per rendere operativo un progetto che può essere di notevole importanza per il territorio. Si inizierà da Celia Marina, ma sarà orientata anche ad altri comuni limitrofi. Oggi è stato interessante perché in questo tavolo hanno preso parte tante associazioni del terzo settore, i rappresentanti del CSV, quindi per me questo è già lodevole. La cosa importante è qual è l'obiettivo di questo progetto? Valorizzare il volontariato, l'agente del luogo, cercare di renderle attivi, partecipare. Questa è la cosa importante. E poi, in seconda che non è di meno, è creare un servizio di riferimento per le persone che si trovano in situazioni di disagio sociale o di marginalità. Quindi rivolto soprattutto anche agli immigrati, ma non solo, anche agli agenti del luogo, attraverso l'utilizzo di questo camper, che andrà attraverso un calendario settimanale nelle piazze prestabilite, dove c'è il disagio sociale e in qualche maniera offrirà servizi da una parte riguardante la consegna di pasti, indumenti, coperte di prima necessità, ma dall'altra anche consulenze specialistiche, quindi tra cui l'aiuto dell'assistente sociale, l'aiuto della psicologa e l'aiuto anche del mediatore linguistico per situazioni difficili. A questo io spero, con tutto il cuore, che possa continuare anche dopo i 18 mesi. Parlavi di cittadinanza attiva, parlavi soprattutto del ruolo dei volontari, che è assolutamente determinante. Benissimo, sì. È determinante perché questo bando nasce proprio per la valorizzazione del volontario. Come si valorizza il volontario? Oltre a renderlo partecipo di questa iniziativa, con un'organizzazione, una programmazione ben definita, deve essere anche una partecipazione in che non ruba molto tempo, che è un tempo comunque limitato a livello settimanale, quindi che sia anche allo stesso tempo motivato. È la stessa cosa non solo del volontariato in sé, perché abbiamo a disposizione già 40 volontari messi a disposizione dalle due associazioni, ma non solo questo. Secondo me il volontario deve venire proprio dalla comunità locale. La comunità locale di Sariglia Marina, ma non solo, deve aiutare anche questo camper nel creare volontariato. Ad esempio, possiamo mettere gli esercenti commerciali, i bar, dove non utilizzano più i cibi della sera, che non sono venduti, metterli a disposizione per le persone che hanno più bisogno. Oppure le stesse famiglie di Sariglia possono in qualche maniera dare una mano a preparare i pasti una volta a settimana, una volta al mese, con una tornazione. E valorizzarlo veramente, in modo tale che non sia neanche un'attività che può rubare troppo tempo, perché se no si può perdere, questa è la cosa principale. Sindaco Mauro, sicuramente un'iniziativa per la quale siete contenti, siete entusiasti, che si svolga la stessa qui nel territorio di Sariglia Marina. Lei ringraziava le due associazioni, ovvero Raggio di Sole, il centro di solidarietà di Catanzaro Marina. E soprattutto ricordiamo che Sariglia Marina, oltre ad essere uno dei comuni più popolosi della provincia, se non ricordo male, il quarto. Inoltre conta un numero di migranti sul proprio territorio davvero elevatissimo. Sicuramente le politiche di accoglienza e di integrazione sono state avviate già da più tempo, e noi con i nostri servizi lo abbiamo testimoniato più volte, ma la solidarietà in movimento è un altro progetto che va in questa direzione. Sì, è una bellissima iniziativa perché si rivolge a persone bisognose, a persone che vivono un disagio molto particolare in questo momento, in particolare agli immigrati, ma anche ai cittadini italiani che si trovano in questo disagio di difficoltà, sia per quanto riguarda economiche che di altro genere. Noi come amministrazione comunale abbiamo sempre sposato queste iniziative che vanno a rivolgersi alle persone più bisognose. Questa è una delle tante, molto significative e molto importanti. Ho avuto modo appunto di ringraziare per questa lodevo iniziativa l'Associazione Raggiù di Sole, ma anche Catanzaro Marina, l'Associazione Catanzaro Marina, che appunto hanno scelto Sedia Marina perché ha dei requisiti particolari, ormai è una cittadina dove c'è una presenza in modo particolare di extracomunitari che raggiunge circa l'11% della popolazione. C'è un'accoglienza straordinaria di questo popolo selliese che si contraddistingue e che quindi cerca sempre di andare incontro alle esigenze che in questo momento purtroppo provengono dai profughi di questi cittadini che appunto vengono anche trasferiti qui nel centro gas di Sedia Marina. Faremo tutto nel rispetto, e questo che ho chiesto alle sue sezioni, nel rispetto della dignità dell'uomo. Infatti, anonimato della carità per il rispetto della dignità, il sindaco lei lo ha sottolineato. Ci sono dei punti di riferimento, l'amministrazione comunale mette appunto la nostra delegata dei servizi sociali che è molto attenta a questa tematica e grazie a lei si sono svolte tante iniziative per questa sua sensibilità e quindi ci sono dei punti di riferimento sul territorio appunto a cui bisogna rivolgersi, così come la parrocchia e in collaborazione insieme al Comune rispetto a questa iniziativa. Quindi nei prossimi giorni daremo indicazioni come si svolge tecnicamente e dettagliatamente questo servizio. Si vedrà anche un camper attrezzato per andare incontro a soddisfare queste famiglie che appunto si trovano in difficoltà. Ecco, Assessore Mina Mustari, lei seguirà in prima persona chiaramente essendo delegata alle politiche sociali peraltro questa iniziativa Solidarità in Movimento, cosa si aspetta? Beh, innanzitutto mi aspetto sicuramente una partecipazione attiva anche da noi amministratori, io come delegata alle politiche sociali e anche i cittadini perché sono sempre stati attenti a queste problematiche e quindi insomma ci saremo, ci saremo comunque sempre. Anche perché avete a fianco le due associazioni chiaramente. Abbiamo le due associazioni che ci supporteranno e quindi sono felice di questa iniziativa tantissimo. Bene, prima di salutarvi facciamo anche una breve dichiarazione con il Sindaco sulla festa di Salia Marina che si è appena conclusa, no? La festa di San Nicola di Bari, una grande partecipazione sia per quanto riguarda i festeggiamenti religiosi che quelli civili. Anche qui è stata una festa particolare perché appunto i sacerdoti, la parrocchia ha inteso dare un significato molto importante, un messaggio molto importante cioè portare un artista quest'anno che si occupa di un problema molto attuale e molto grave qual è quello che è il bullismo e il femminicidio. Abbiamo fatto insieme alla scuola degli incontri di sensibilizzazione ai ragazzi, delle scuole medie in modo particolare proprio perché per cercare di prevenire questo, diciamo, ormai questo disagio e questo fenomeno che ahimè purtroppo è di, come dicevo prima, di attualità. E quindi hanno scelto Giosquillo che poi la sera si è intrattenuto in uno spettacolo molto interessante ma quello che è premuto molto alla comunità è che il Sindaco e l'amministrazione comunale ha sposato appunto i festeggiamenti sì ma anche dare un senso, un messaggio sociale molto importante. Quindi anche qui le risorse sono state spese in modo intelligente. Don Giuseppe, oggi viene presentata questa iniziativa La Solidarità in Movimento ma io vorrei spaziare con lei perché sono tante le iniziative. Non ultima quella in occasione della festa patronale di San Nicola di Bari che si è conclusa proprio nell'ultimo weekend. Avete voluto invitare Giosquillo, cantante, presentatrice, conduttrice molto brava con la quale peraltro avete voluto lanciare un messaggio sociale importante contro il bullismo. Bullismo e femminicidio. Abbiamo avuto questa, la definisco una grazia, perché circa 200 ragazzi della nostra comunità frequentanti la scuola media e insieme con la dirigente scolastica e l'amministrazione comunale abbiamo avuto proprio questo incontro perché proprio dalla scuola media iniziano queste problematiche, questi problemi che dà particolare adoscenziale dove i ragazzi cominciano a litigare tra di loro, a crearsi momenti di protagonismo negativo con atteggiamenti di violenza e quindi Giosquillo ha dato dei messaggi importanti dove i ragazzi l'hanno accolto con calore, con applauso ed è stato lanciato dei messaggi molto positivi tra cui denunciare, la frase che mi ha fatto un pochettino pensare, denunciare il primo atto di violenza. C'è una piena collaborazione tra amministrazione e parrocchio. Noi abbiamo mensilmente con la Caritas Parrocchiaro una raccolta di genere alimentari così come di vestiario e ogni mese assistiamo circa 70 persone della nostra comunità italiana, i selliesi, quindi della nostra parrocchia, con viveri, oltre ad assistere anche gli immigrati con il centro Albatros che è il CAS di Sellea Marina, come anche gli altri residenti immigrati, in modo particolare la comunità più grossa, i marocchini, i rumeni. Ribadiva l'importanza dell'anonimato, della carità per il rispetto e della dignità, la mano destra non deve sapere quello che fa la mano sinistra. Questa non è la mia frase, è una frase di Gesù, perché noi abbiamo constatato con mano che ciò che ha detto Gesù è attuale, è vero, perché molto spesso l'altro che è nel bisogno non accetta il bisogno proprio per avere la dignità ed è giusto che sia rispettata la sua dignità perché la gloria non la dobbiamo dare a noi stessi ma la gloria va a Dio e facendo il bene ai fratelli facciamo bene al Signore. Tutto ciò che avete fatto a me, al più piccolo, l'avete fatto a me, dice Gesù. Durante questa conferenza stampa è stata evidenziata innanzitutto l'importanza di tale iniziativa che può attecchire bene su un territorio che, come abbiamo detto più volte nel corso di queste interviste, conta il più alto numero di migranti a livello provinciale. Detto questo, lei sottolineava le grosse potenzialità dell'intero comprensore, mi riferisco a Celia Marina, Cropani, Botricello. Questo è un momento che potrebbe diventare un grande momento di progettualità generale della popolazione per essere coinvolta nell'aiuto a queste persone che hanno necessità e bisogno. Io ho una cosa che credo che potrebbe fare questo progetto, è il gruppo che ha organizzato la sua identità in movimento, quello di fare anche delle convenzioni, ovviamente gratuite, con professionisti del posto che possono dare assistenza a questa gente e che magari potrebbero mettere a disposizione dell'associazione stessa e di queste persone bisognose parte del loro tempo, un'ora, due ore, settimane. Io parlo dell'avvocato, parlo del medico, parlo del geometra, parlo di tutti coloro i quali hanno la possibilità di fornire degli aiuti a persone che ne hanno necessità e bisogno. Questa è cittadinanza attiva. Noi sappiamo, io parlo da Lions, ma parlo anche da cittadino, il Lions già quest'anno è stato molto impegnato in progetti di cittadinanza attiva sul nostro comprensorio e anche su Catanzaro, la Mezza. Siete molto attivi, lo sappiamo, in tutto il Medio Ionio. Iniziative estive, insomma, per concludere questa intervista? Iniziative estive, ancora non possiamo praticamente dire che ci stiamo organizzando, perché noi in genere praticamente, però questa è un'iniziativa con la quale possiamo già cominciare a collaborare anche per l'estate. Io do disponibilità per quanto riguarda io personalmente e i soci del club di Cropani, Botricello, Sellea Marina e Medio Ionio che possono sicuramente partecipare come volontari a un progetto di questo tipo che parte subito e quindi siamo già a disposizione. È tutto da Sellea Marina per Solidarietà in Movimento. Ai prossimi appuntamenti. Autore dei sottotitoli e fours muri. Grazie a tutti.